Lewis Hamilton fa sua anche la pool a Monte Carlo. Nelle prove ufficiali per la griglia di partenza del sesto appuntamento del Mondiale 2015 ha fatto registrare il miglior tempo in 1.15.098. Accanto a lui partirà il compagno di scuderia Nico Rosberg. Per la Ferrari l'obiettivo era di centrare almeno la seconda fila. Fettel ci è riuscito con il terzo tempo, mentre Raikkonen finisce sesto e compromette quanto di buono aveva fatto vedere in precedenza. Avvio della gara alle 14.